Ehi, Giova, da quanto tempo? Facciamo colazione insieme? Francesco? Cavolo, quanto tempo? Certo! Benvenuta nel bar della mia azienda. È tutto di vostro gradimento, signori? Sì, tranquillo, grazie, Johnny. In che senso? In quale azienda lavori? L'azienda è mia, si chiama Nova Nexus AI. Mi sono specializzato in intelligenza artificiale. Vorresti visitarla? Certo, mi farebbe un sacco piacere. Andiamo? Guarda qui, Giada. È tutto automatizzato. I robot sono dieci volte più efficienti di qualsiasi umano. E tu controlli tutto questo? Sì, sono il cervello dietro questa rivoluzione tecnologica. Benvenuta nel futuro, amica mia. Grazie. 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 Grazie.